Buongiorno e buonasera, qui c'è da Yoshi e sono in una nuova puntata di The Randomized Nuzlocke di Pokémon Esmeralda. L'ultima volta abbiamo battuto la seconda palestra con molta meno difficoltà di Roxanne, fanculo Roxanne, ho sempre problemi con te. Poi abbiamo catturato un Inkada, esplorato la cava di granito e dato la lettera a Steven e ho fallito a catturare un Entei a Petalburg. Però poi se lo fatemelo scrivere velocemente che ce l'ho qua, ho dimenticato di farlo. Petalburg City fallita, ok. Ora, sono appena fuori dal Svoro per questo 115 perché mi sono appena ricordato che qua posso ancora pescare, perciò mettiamoci a pescare. Un Quasire, interessante. C'è un solo tackle. Vediamoci a scoprenderlo. No. Ho preso, sì! Ho preso un Quasire. Diamo gli un nickname. Prima, datemi un momento che controllo la lista degli iscritti. Ok, ci siamo. Il prossimo iscritto è TheMonkey. Grazie per il supporto, ora sei un Quasire. Anche se dovrei dare questo tipo di nome a qualcun altro. Io vado per ordine. Ok. Adesso che siamo che abbiamo qua, abbiamo fatto direi non ci sono i caspecchi d'acqua al Svoro, vero? No, possibile. Direi di tornare indietro, indietro. Passiamo... Beh, no, è lo stesso. Ci sono pieni di qua. No, non è l'erba, per favore. Ora parliamo con Briny. Ci porterà a Dewford e poi ci porterà a Slateport. Andiamo a Slateport. Ok. Ora. Questo è il percorso 109. Nuova cattura. Quindi mettiamoci nuovamente a pescare. Andiamo, bello. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Un'altra cosa che non credo di poter catturare. Ma sono comunque le probabilità più alte di quelle che avevo con Entei. Quindi proviamoci. Proviamoci, ragazzi. Voglio un Blaziken. Aia, hai già Ember. L'ho visto crepare per un momento. Ok. Oh, è andato subito. Fantastico. Grande. Ho già un Blaziken. Ok. Controllo ancora una volta l'inizio degli iscritti. Torniamo tra poco. Ok, ci siamo. Il prossimo iscritto è Farenzil. Farenzil98. Grazie per il supporto. Ora sei un Blaziken. Congratulazioni. Ah, vediamo. C'è un po' di gente. Scusate. C'è un po' di gente qui. Andiamo, Bombermax. Davanti. Ehi tu. Fatti sotto. Già, immaginavo. Iggybuff, stai dentro. Tanto è un Baby Pokémon. Un Crepa con un Taglio, forse. Eh, fatti. Easy. Poi abbiamo. Oh, grazie. Apprezzo. Cazzo! Ho la paura. E non posso nemmeno andare in... Non posso nemmeno usare Giovanni, perché... Aia! Ok, no. No, no, no. Oh, Zeshi. Devo usare... Neutrale, esatti. No, scusate, ma... Non tengo dentro... Bombermax con... Con un Zapdos fuori. Mi rifiuto. Intanto mi do una... Una sestata, perché... Ok. Ho anche tirato su un oggetto. Un antidoto. Ok. Dobbiamo stare parecchi di quelli. Non voglio fare una... Battaglia doppia. Questo è un Ralse. Un Taglio muore. Ehi, bambino. Un Venonat. Va bene. Vai, Bombermax. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh. Ha fatto un po' di fatica. Sì, sì, tranquill'. Ah, questa è una battaglia doppia. Cacchio, cacchio, cacchio. Ok. Oh, siete tanti! O meno perché Odds fuori. Eh... Aplazor. Ok, zoomare il fuori. Cacchio! Ti prego, no! Fuori Bombermax, dentro Giovanni. E Odds può fare Tackle. Lir non mi interessa. Aurora Bean. Thunder Shock. E un Hagron. Cambio l'Hagron. Cambio Giovanni con Big Boss. Cambio Odds con Maverick. Edbat. Non mi interessa. Water Gun. Eh, Metal Club. Oh, ma dai, ho mancato Metal Club, veramente. Ok. Questa è fatta. Metal Coat. Ok. Che notizie mi sembra che mi dia qualcosa. O no? Ah, no. Balle. Mi ricordavo un Hack che dava qualcosa. Ah, forse era Royal Emerald? Che ti rifilava uno Zorua? Può essere. Non mi ricordo. Andiamo. Andiamo la Chiega I1. Così si diventa un po'. Eh. Questo è Slateport. Credo di poter pescare Slateport. Beh, ci pensiamo dopo. Ci pensiamo dopo, dai. Voglio fare prima questa casa qui. Ci caviamo oggetti e esperienza. Abbiamo pure un Moltres. Ma certo. Ma dai. Ovviamente hai Ember, ma per forza hai Ember. Eh già. Wingata, cacchio. Calma, Moltres. Ok. Grampig. Hmm. Non so chi mandare. Maverick resiste, dai. Andiamo con Maverick. Ahia. Sai, Bim. Lo sapevo. Il Grampig ha... Il Grampig ha sempre mosse psico-relativamente forti, devo dire. Guarda, Hortle. Oh là, non mi frega niente. Mi spiace. Vai, Celebi! Poi abbiamo questo tizio. Combattimi. Avrei un Seedot. Grotto non mi fai niente, mi spiace. Slacking. Sì, rimani dentro. Cosa vuoi che abbia uno slacking? Tran Yon. Ah, no. Beh, ancora. Oh, bravo, svegliati subito. Huh. Iron Defense. Beh, meglio di Arden. Gleli, rimani dentro. Ok. E tu? Grazie, amico. Nient'altro? 300 bottiglia. Hmm. Cosa che fa? 60. Eh, meglio delle super pozioni, devo dire. Oh, Madonna. No, ci vuole un anno. Perdiamo tempo. Ok. Facciamo Slateport. Ehm. Hmm. Guardiamoci un po' in giro, eh. A bambole, va bene. E tu? Niente, va bene. D'accordo. Ah. Da qui in avanti non so niente di Smeraldo. Vi avviso subito. Quindi cerco di... Va bene. Sì. Mother jar. Hmm. Ok. Cosa abbiamo qui? Aha! Facciamo... Facciamo una bella cosa, va? Mi spiace dovesse... Vendere queste Pokéball, ma... Le Graypoll sono migliori. Anche se non ce ne posso fare troppe. Almeno garantisco... Garantisco... Meglio una cattura. Ehm. Fatemi controllare quanto stiamo. Sembrerebbe undici minuti. Ok. Undici e cinquanta. Ehm. Qui se non svegli c'è qualcuno che ci dà qualcosa. Sei tu, vero? Oh. Ok. Sì, ok. Questa cosa io non la farò. Sicuramente non la faccio. Ah. Swagger. Wow. No, no. Swagger non è proprio il massimo. Va bene. Se mi dai qualcosa. Ehm... Boh. Non lo so. Ti dico beautiful. Ah. Boh, vediamo. Ehm... Questo sembra buono. Sì, ok. Ah, credevo di mi dissero qualcosa. Invece mi sbagliamo. Va bene. Qui c'è il name rater, vero? Ok. Va benissimo. Va bene. No, ma a noi non servirà perché spero di non fare errori con i nick maim. Ehm... Che cosa abbiamo qua fuori, poi? Oh, altra cattura. Bene, bene, bene. Però prima finisco di... Girare. E magari pesco. Devo fare un paio di catture oggi. E devo dare... La cosa al... Al tizio, se la trovo. Se trovo il tizio, però. Eh... Trovalo adesso. Qua è barricato, quindi non posso fare niente. C'è anche delle case. Magari. Sì, ok. Natura. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tu che racconti? Niente? D'accordo. Tu che racconti? Niente. Va bene. E tu? Ok. Credo di aver parlato con tutti. Entriamo qua dentro. Deve che ci capita una stem qui. Sì, bene. Vorrei capire dov'è, però. Andiamo su... Al piano superiore. Scusate, ma non sono interessato ai discorsi. Eh, non è qui, però. Da dove è sto tizio? Ah, sono tutti entrati adesso. Ok, bene. Ehm... Allora. E' quello che faremo. Faremo queste due catture. Questa a Slateport e questa fuori. Ha il percorso, non mi ricordo come si chiama. 110, immaginavo. Va bene. Dov'è pescare di nuovo. Eh, peta, chi ho davanti? Qualcuno che non è Maveri. Eh, qualcuno che non è Oz. Quindi, datemi un momento, che devo anche curarmi. C'è neanche la palestra qua. Non credo di averla vista. Dai. Ok. Un tailo. Eh. Ma. Vabbè. Poteva essere meglio, eh. Sì. Ok. Controllo la lista degli iscritti. Torno tra poco. Ok. Il prossimo iscritto ha un nome che io non riesco a pronunciare. Scusami. Ma onestamente non riesco a pronunciarlo. Ibi. Ho già dimenticato come si scrive. Da quanto è difficile da pronunciare. Scusami. Controllo un momento. Ok. Ci sono. IBDS. Pigai. Grazie per il supporto. Ora sei un tailo. Ehm. Ora usciamo. Tu non mi affronti, vero? Non è fatto. Lì è barricato. Quindi dobbiamo per forza andare nell'erba. L'erba sarà sicuramente più interessante. Avrà incontri più... Ho ho ho. Ok. Va bene. Thunderwave. Oh. In quel momento pensavo che l'avevi ucciso. Ah. Questa non vuole entrare. Aia. Ok. Vai. Perfetto. Sì. Controllo ancora una volta la lista degli iscritti. Ok. Ci siamo. Prossimo iscritto è Foxy the Fox. Grazie per il supporto. Sei... Ora sei un Charmander. Ti ho un Foxy e basta dai. Odio. A questo punto mi sa che dovrò aggiungere un tipo fuoco eh. Nel team. Che significa che... O Giovanni o Big Boss se ne devono andare. Mmm. Dovrò decidere. Sarà probabilmente Giovanni. Mmm. Guardi che porcate. Sarà probabilmente Giovanni. Ehm. Ok. Credo che... Usare il Blaziken. Bold è orribile. Ma vabbè. Questa Guts. Ok. Lo considererò. E poi c'è almeno che ci metto un nano a imparare. Lì c'è fiamme. Perciò. E poi abbiamo un Quagsire che ha solo Water Gun. Ok. Sì. Mi sa che prendo Farenzi e... L'alleno è il posto di Giovanni. Però Giovanni lo tengo da parte. Porterò Farenzi dal 17. Non dovrei avere problemi. Speciale con Lucky Egg. E poi... Ehm. Entraremo nel museo. E vedremo che cosa... Che cosa combiniamo con... Con il team Aqua. Perciò. Per ora è tutto. Grazie a me che hai seguito. Se vi vi è piaciuto. Se volete vedere di più. Lasciate un commento. Mettete mi piace. O iscrivetevi al mio canale. Detto questo abbiamo concluso. Perciò. Ci rivediamo come sempre. In un prossimo video. Bella!